Ragazze, oggi è la notte di Halloween! Vero! Dovrete trascorrere 24 ore a Moviland! Sveglia ragazze! Sveglia! Si va a Moviland! Sveglia! Signorine! Ma non sapete oggi che giorno è? No! È il 31 ottobre, la notte di Halloween! Eh! Scusi, mandi in colta a terra! Ma dove andate? Presto! Vi dovete travestire da zombie, da dragula, da vampiri! Dai! Che dobbiamo andare a Moviland! Auri, sveglia! Ci volete andare o no a Moviland? Sì! Aiuto su! Ragazzi, buongiorno! Dai, Auri, su! Sveglia! Sveglia ma? Sveglia io! Dobbiamo andare a Moviland! Sveglia io! Presto, presto! Svegliarsi! Sì! Ragazze, oggi è la notte di Halloween! Vero! Dovrete trascorrere 24 ore a Moviland! Sì, ragazzi! Sì, ragazzi! Oggi, ragazzi, non andiamo a guarda come Esther! Facciamo sempre! Esatto! Questa volta cambieremo! Andremo a Moviland! Ragazzi, non andiamo a guardare un po' piccolina! Ecco, io non me la ricordo per niente! Invece Lulu non c'è mai andata, neanche Zahida! Ma so, ragazzi, ma so! Che lì? Però tu diciamo una cosa un po' terrificante! Ovvero? La gabbia che si mette lui e poi sopra c'è una persona che sta a Nicola! Eh! Ma siete mostruose! Fammi vedere i denti, allora! Le zanne, le zanne! Mamma mia! Ma siete spaventosissime! Ma cosa volete fa spaventare tutte le persone che vanno a Moviland? Sì! Sì? Sì! Andiamo, allora! Leo, sei pronto tu? Cosa stai facendo, Leo? Ehi, ragazzi! Avete già preso il nostro libro? Wow! Laura, mi copica il portale del tempo sospeso! Se non l'avete ancora fatto! Fatelo assolutamente! Velo, Ludo? Perché noi ci vediamo il 19 novembre a Milano, nel megastore della Mondadori in piazza Duomo alle ore 15.30 per firmare tutte le vostre copie del nostro libro e incontrarvi e abbracciarvi tutti quanti! Mi raccomando! Non mancate! Vi aspettiamo! Esatto! Sei pronto per andare a Moviland? Vuoi venire anche tu con noi? Sì? Dove stai andando? Leo! Leo! Vuoi andare anche tu a Moviland? Leo! Stai sul mantello di zia Mary, Leo! Vuoi venire con noi? Sì! Allora, guarda là! Vai, Leo! C'è una foto con Auri! No, Lero! È pronto, Leo? Leo, allora, adesso andiamo a Moviland? Adesso vorremmo spaventare un bel po' di gente! Ma Leo viene con noi? Non lo so! È meglio di no, altrimenti si spaventa! Ti spaventi, cucciolotto! Allora ci vediamo più tardi! Oh, che paura! Dai, amore, allora ci vediamo più tardi, va bene? Leo, amore, vuoi venire con noi? Tu non puoi venire, cicciolo! Lo so che ti sei vestito, anche tu ti sei travestito! E vuoi venire con noi! Ma tu non puoi! Ci devi aspettare qui! Capito, Leo? Non ti prendi paura! Guarda che lui già si è messo vicino alla porta! Guarda che vuole venire! Guarda! Guarda! Ma non si può! Non si può, Leo! Allora, ragazze, siete pronte per entrare? Sì! Siamo prontissime! Adesso! No, dove vai? Aletta! Guto, dove vai? Su, entra! Ragazzi, entriamo, guardate! Ecco l'ingresso, ragazze! Ragazzi, c'è un altro giro! Aspettate in tutti! Vai, Ludo, vai! Andiamo, andiamo, andiamo! La musica è un po' inquietante! Ma questi sono i mostri, vero? Quelli che ti vengono a spaventare! Pronte? No! Però adesso la faremo... No, ragazzi, c'è una giusta! Ma di cosa hai paura? Guarda che non ci sono gli zombie! Io ho una paura che non vi dico... Non vi vedo convinte, ragazze! Non iniziamo perché ho visto un bel po' di mostri! Non vi avviciniamo! Wow, quante zucche! No, ragazzi, questa è... Guardate questa che denti che ha! No, mamma, la voglio fare! Quale? Quello, 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 questo! E questa è no, se c'è la nostra! E quello? Quello! Cos'è un missile? No, alzi, no, facciamo prima questo, dai! Mi sembra bello carino! Io non ci penso proprio, guarda! Se vuoi, ci vai con tuo padre! Io proprio manco a pagamento! Guardate! Che poi scende giù! Guarda! Sta salendo! Questo come si chiama? E' la torre! Hollywood Hammer! Tipo una cosa in genere! No! Oh, mamma, no, 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 no! Guarda lì! No, no, no! Guarda lì! No! No, ragazzi! No, voi siete pazzi! Ma io non ho proprio scordato! Ciao! Ciao! No! 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 Ma posso sedermi? Ma sei sicuro? Andiamo via! C'è un caos qui oggi che non si può neanche camminare! Non si capisce letteralmente più da camminare! Non avere paura l'uno! No, io so paura! Certo! Amore, ma quanto è bella! Ciao, piccolina! Le unicornine sono ovunque! Sono! Guardate qui il delirio oggi! Il 31 vi sconsigliamo di andare in giro per i parchi perché c'è il caos più totale! La settimana prima che è meglio perché oggi è veramente impraticabile il parco! Ho già visto due mostri in te! Però finalmente vediamo un parco nuovo! Però no! C'è il caos che c'è amore! Ti piace qui? Qui c'è zia Mary! E qui c'è zio Gianni! E qui ci sono io! Ma sei l'ormale! No, scusate ragazzi, lei non è mia mamma! Vai Ludo, non avere paura! Adesso ragazzi faremo il labirinto! Andiamo! Ma cos'è questo labirinto? Noi Ludo, vieni! Ragazzi, dove state andando? Andiamo dai qui, dai! Cos'è questo labirinto? Sicuramente non capisco dove ne vantare! Ludo, è buona! Oh mamma! Grazie, è molto simpatico! Eh, andiamo... E' rotto! Andiamo di qua, dai! Mamma mia, che paura! Ragazzi, usciremo da qua dentro! Allora, guardiamoci! Chi è quello? No, io passo qua, sì! Dove andate? Allora, si va di qua, dai! Sto'è che si va di qua! 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 Ma non! Ah, che va di qua! Ragno! Oddio, chi è questo? Ma io sono i suoi di ridere paure! Ci fa la cacca addosso! Ma che cacca addosso? Ci fa la cacca addosso? Dobbiamo trovare una via uscita, ma non la trovo! Allora, cosa fa? Oh oh! È un po' inquietante, ragazzi! Ma non so mica! Oh! No! Sto'è che cacca addosso! Sto'è che cacca addosso! Allora, io direi che andiamo di qua! Usciamo! Oh! Di qua! Di qua! Vieni Zahira! Non ti perdere che dopo non ti troviamo più! Ragazzi, siamo di qua! Ragazzi! Ho la situazione sotto controllo! Sto'è che cacca addosso! Ma dove si va? Ma che cacca addosso! Ma di qua? No! Ah no! Di là! Ragazzi! Ragazzi! Non ci sono tutte le persone dietro le tenne! Ragazzi, stiamo atroppendo la situazione! Scappa! Non so niente! No ma pré! Non so niente! Ah! Scappa! Scappa! Ciao paura! Chi è lì dietro? Qualcuno ti sta spiando! No, vai dietro! Ma che sa? No! Allora! Raccalmiamoci! Scappa! Io non ci vengo più qui eh! La prossima volta vado a guardarla! Ma cos'è questa sirena? Ma non sto capendo in qua! Diti sei venuta! Di qua è l'uscita no? Andiamo! Di qua no? Giù! Oddio! Chi è? Aspettate! Aspettate! Ludovica! Dov'è Ludovica? Si è bloccata! Ludovica è trovata l'uscita! Usciamo! 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 Si è l'uscita! Ma questo è l'abilito di Granny! Oddio! 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 Adesso andiamo a fare un'altra giustrina! Ludovica dov'è? Ludovica dov'è? Ludovica! Ludovica! Oddio! Riusciremo ad andare su qualche attrazione? Adesso ragazzi andiamo a fare le cose! Cosa? Cosa? Che cosa? Zahira! Ma qui ti è fatto buio! Ludovica si è affioppata con papà e terrorizzata degli zombie! Ma nemmeno c'è nessuno! Sì! Oddio! 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 ragazzi io ho ancora qui sopra aiuto chi è quello mi sono quei quattro aiuto ragazzi mi sono quelli lì mi stanno rincorrendo scappate aiuto scappate ma chi sono quei quattro Ludovica è terrorizzata aiuto ciao andiamo via ragazze ragazze scappate subito appena si ferma alzate subito la sicura scappate 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 Zahira Corriamo Siete pronte per partire Ludo? Sì Zahira e Ludovica saranno i d'arte Sul draghetto Com'è stata la giostrina? Carina dai Ma tutto a posto? Ma chi è? Ma che dragona? C'è ma normale Vediamo qui sotto che c'è Qui sotto? Qua si passa No No Vediamo cosa c'è qui Ragazze ma qui c'è un sentiero? No guarda Guarda Scappa Scappa Che carino questo trenino Sembra il trenino che abbiamo sull'albero di Natale Wow Ma sei seria? Andiamo dai Fa un po' freddino qui Inizia a fare un po' freddino Ragazze siete in fila per cosa esattamente? Un treno Per il trenino? Sì Ah va bene Per il trenino? Ciu ciu Ludo Come sei brutta Ludo Papi ti ha rubato la maschera Ludo Eh sì È mia Ok eh? No è mia Zahira cosa stai pensando? Dai Oh oh Ecco il trenino ragazze Ecco il trenino Ragazzi pronti per salire? Ludo, sei pronta per partire? Siamo pronti Aurora dov'è? È dietro mamma È dietro con Zahira Ciao Poi se iniziamo Ma io ho paura qui sul trenino Oh 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 Clima scherzo Oh 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 Io ho paura eh Che per te? Wow Che bello Ludo hai visto che bello Fa paura Wow Wow Guarda lì c'è il polipecco dove siamo andati noi prima Ludo Siamo quasi arrivati Ragazzi si è bloccato No E che senti bloccato? Non va più avanti Guarda io soffro di vertigini Si è bloccato ragazzi non va più avanti Ma dai adesso va Ludo c'ho paura Mamma adesso va Apri Ragazzi si è bloccato Si è bloccato non andiamo più avanti No 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 è vero mamma dai Dai Qui siamo alti Guardate come siamo alti Perché non va avanti? No ma perché non va avanti? Perché forse deve partire l'altro trenino guarda Tutto Ecco 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 Siamo salve Ludo siamo salve Mamma mia Aiuto Sei pronta per lo zucchero filato horror? Si Sì Ma questo è uno zucchero filato con i ragni Oh saluto Vediamolo Ragazzi ecco i ragni Mamma mia Come sono questi ragnietti? Ciao Buoni Chi tu la mangia? Il ragno Perfetto Vediamo Ah mi ha taccato la bocca Ma che fai mamma No ragazzi è buonissimo È buono? È una nuvola Io direi di andarcene a casa Perché c'è troppa gente Non si riesce ad andare neanche in attrazione Quindi io direi di uscire di qui E andiamo a mangiare un bel McDonald's Ok un bel McDonald's Ok ma c'è un problemino Che problemino? No Io non riesco proprio a mangiarlo Zahira Tu lo vuoi il McDonald's? Ci stai? Sì Andiamo allora Dai usciamo da qui Che c'è troppo Ciao 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 siamo rientrate finalmente a casa dalle facce si vede che siamo stanche morte e io ho dormito in macchina e poi ho dormito quando stiamo andando a casa e ragazzi non posso mancare i macarons di aloe wow fammi vedere i macarons di aloe che buoni ma qui ce ne manca uno chi è che l'ha mangiato l'hai mangiato già? era zucchetta furbacchiona va bene fatemi vedere cosa avete ordinato a me questo è l'eppium di zahira questo mio e aurora dov'è aurora? l'aurora è andata in bagno c'è anche il giochino è svezzato lulu cosa hai preso tu fammi vedere aspettate ah ragazzi sono pure le mele pure una per zahira poi c'è due ketchup e uno di me poi ci sono io ecco aurora no allora voi avete riuscito a mangiare senza di me? coca no in realtà stanno solo apparecchiando io metto qua anzi no qui dai ragazze ma come vi è sembrato moviland? fantastico ragazzi almeno abbiamo cambiato un po' solo che faceva troppo freddo vero ragazze? vediamo buono buono va bene ragazzi allora io direi che è arrivato il momento di cenare e di salutare che ne dite? eh va bene ragazzi il video di ciò qui noi vi saldiamo speriamo che questo video allovinoso vi sia piaciuto ma per avanti questo passo iscrivetevi e attivate la campanella e lasciate tantissimi polligioni inzù fatelo eh ciao ciao questa è una dormiglione ha fame allora non magliana magliana questo è pazzo grazie a tutti